Ciao, sono Irene Candelieri, psicologa, psicoterapeuta e analista junghiana. Ti do il benvenuto su Mindwork. Nella mia attività clinica, da molti anni accompagno le persone a gestire in modo efficace le emozioni, le relazioni, i conflitti nella vita familiare e lavorativa. Spesso affronti insieme a loro i disagi legati ai disturbi dell'umore e della personalità, alle dipendenze, ai comportamenti alimentari. Grazie alla mia formazione e all'esperienza maturata nel tempo, dedicando un'attenzione profonda alle immagini interiori come quelle che emergono dal mondo notturno dei sogni, ho compreso che possiamo guardare i nostri malesseri fino ai sintomi che ci creano più sofferenza da un'altra prospettiva. Non come nemici da combattere, ma come un modo con cui la nostra parte più profonda sta cercando di comunicarci qualcosa, perché forse non è riuscita a farsi sentire in altro modo. Posso aiutarti a esprimere nel modo più efficace queste parti che chiedono ascolto, così che possano trasformarsi in risorse per sviluppare al meglio la tua vita. Consiglio Mindwork, perché offrendo un supporto a distanza garantito da professioniste e professionisti competenti, facilita l'opportunità di prenderti cura di te dal luogo in cui ti trovi e nei tempi per te più adatti. E perché si occupa di promuovere la cultura psicologica, mettendo al centro il benessere mentale delle singole persone? Se hai bisogno di sostegno e di aiuto per procedere con più benessere e serenità nel tuo percorso di vita, puoi contattarmi e faremo un tratto di viaggio assieme. Sarò felice di accompagnarti. Ti aspetto su Mindwork.